Escono mestamente dai play-off promozione entrambe le squadre femminili di calcio dell'Acragas e quella dell'Academy Fussal Canicati. La squadra biancazzurra infatti ha ceduto con il risultato di 6-2 ad Alcamo contro il Castellammare e rimanda alla prossima stagione i sogni di approdare in Serie A. E proprio quest'avversaria trapanese andrà a disputare lo spareggio promozione con il Meta Catania. Le ragazze biancazzurri nel primo tempo hanno tenuto bene il campo e hanno avuto un bel po' di occasione per segnare qualche rete in più. Dopo il vantaggio delle padrone di casa, il pareggio arriva subito dopo con una bella azione di Fabiola e Failla. Ma nei minuti finali del primo tempo subisce due reti che complicano la situazione. Si va al riposo sul 3-1. Nella ripresa, l'esperienza e la qualità del gioco del Castellammare fanno la differenza. Le agragantine cercano di reagire, lottano seriamente e aspramente, ma si sbaglia troppo nelle conclusioni. E il finale arride ai colori del Castellammare che si impone, ricordiamo ancora una volta, con il risultato di 6-2. Stessa sorte per l'altra grigentine Fussal Academy a Canica T, che comunque esce a testa alta dai play-off. Infatti la squadra biancorossa è uscita dal rettangolo di gioco senza subire alcuna sconfitta. La compagina biancorossa, infatti, dopo il pareggio di domenica scorsa, anche in questo turno palermitano contro il Palermo di Dicalcio 5, esce con un nulla di fatto, pareggiando contro le ragazze rosa-nero con il risultato di 2-2. Gara condizionata fortemente dal brutto tempo che ha imperversato sul capologo siciliano. Si conclude dunque l'avventura per entrambe le grigentine che avranno modo di riorganizzarsi a dovere per la prossima stagione.